Domenica i Granata affronteranno a Grigento nella penultima di campionato a precedere l'altro derby, quello con Barcellona. I ragazzi di Ducarello affronteranno la prima squadra capace di questa stagione ad espugnare, il Panaconad. Solo l'ultima parte di questo campionato ha visto la squadra di Ciani un po' vacillare. I cugini infatti sono reduci da una brutta sconfitta a Reggio Calabria, ma sono saldi in classifica a quota 34 punti. Avversario quel Marco Evangelisti che tanto ci ha fatto sognare, ma anche disperare da avversario. Insomma la pallacanestro Trapani sa di avere poche possibilità se non c'entra almeno una vittoria su due, dovendo anche sperare sui risultati altrui. Vincere ad Agrigento vorrebbe dire veramente tanto.